Picture World Life è sicuramente una esperienza che può essere estesa ad altre aziende della fotografia. Il nostro gruppo di lavoro è basato su due cose fondamentali, le regole e l'attenzione, e fa di noi un gruppo forte che lavora con passione. Qui al Maxi di Roma abbiamo potuto vedere realizzato il prodotto finale di tanti ragazzi che hanno un vissuto molto difficile, ma hanno potuto vivere questo momento di gioia, condividere e contattare tanta gente. Vorrei essere una cosa fondamentale nella condivisione anche con aziende che nel settore possono collaborare a qualcosa che attraverso la fotografia serve a far superare il disagio, a dare una seconda opportunità a molti giovani che hanno avuto un momento della loro vita sbagliato. L'esperienza che noi abbiamo avuto con il gruppo di donne che hanno subito violenza e che hanno partecipato al gruppo della fotografia organizzato dalla vita Manfrotto è stata importantissima, importantissima perché per queste donne uscire dalla violenza è molto difficile ed era anche un gruppo che dava loro una prospettiva per il futuro. Grazie a tutti!